Oggi è l'8 febbraio, ci troviamo a Vigarano Pieve, vediamo dei lavori di potatura eseguiti in maniera, non so, io le definisco capitozzature. Sappiamo che le capitozzature sarebbero vietate per regolamento perché sappiamo che ove la chioma dell'albero viene eccessivamente ridotta, si riduce proporzionalmente anche la radice dell'albero e di conseguenza l'albero diventa più precario, il suo equilibrio diventa più fragile ed è più facile che crolli oppure che comunque sia soggetto a malattie ed altre problematiche. Gli alberi in salute dovrebbero avere antie chiome che possono essere certamente potate ma non in questa maniera, non con l'utilizzo della capitozzatura, richiediamo che la capitozzatura è vietata appunto per garantire la sicurezza e la salute dell'albero. Tutti gli alberi della via che va da Ferrara a Bondeno stanno venendo capitozzati, è un disastro. Ecco neanche a farlo apposta qui ci troviamo in via Argine Po, poco distante dalla zona di prima. Via Argine Po vi fa già presagire dal nome che in passato doveva essere una via almeno in prossimità dell'argine caratterizzata come tutte le vie una volta arginali da alberi, al contrario di quello che si dice adesso dove gli alberi in realtà provocano disagi e pericoli per gli argini. Una volta le vie arginali erano completamente piene di alberi, guardate questi alberi perfettamente manutenuti, perfettamente in salute, non arrecano alcun tipo di danno e pericoli alla circolazione e alla strada, guardate che chioma, ovviamente proporzionalmente la chioma sarà rapportata alle radici, quindi questi sono alberi assolutamente stabili, alberi che non temono eccessi di acqua, non temono siccità perché sono in salute. Purtroppo guardate qui che bellissimo filare e rendiamoci conto che purtroppo rispetto a prima invece è un qualcosa di completamente diverso.